eccoci qua con l'ultimo video fiorentini ovviamente trovate tutti questi prodotti su asfood avete il mio codice sconto che è Giulia010 per iniziare subito ci sono 4 gusti differenti iniziamo da questi qua sono delle mini gallette aromatizzate mais snack, rosmarino, bio gluten free non fritto e meno di 100 calorie e non riuscivo a leggere per confezione da 20 grammi questa è una confezione da 20 grammi allora 91 calorie grassi 3,0 carboidrati 14,6 fibre 0,4 e proteine 1,3 gusto rosmarino queste sono mini porzioni mini porzioni ops, ho rotto tutto quello è qua wow oddio che buone il rosmarino è molto forte come gusto è molto buono un po' buone non puoi lo troveranno buono non me lo aspettavo andiamo avanti voglio provare gusto pizza non fritti gusto pizza da 40 grammi allora per 40 grammi ha 173 calorie grassi 4,4 carboidrati 29,8 di cui zuccheri 1,8 fibre 1,2 e proteine 2,8 ingredienti farina di riso farina di mais solo di gelato ok gusto pizza wow sono buonissime meravigliose veramente buone queste volete portare in giro la consistenza è meravigliosa un gusto molto semplice prima di passare ad un gusto molto strong gusto formaggio anche se da 40 grammi quindi l'unico pacchettino piccolo era quello al rosmarino ovviamente sempre il solito discorso gluten free per i valori ragazzi ammoliti quindi non utilizziamo quindi non utilizziamo proviamo questo formaggio infatti si sente che sono fatti con farina di riso è proprio la consistenza wow sono meravigliose le patatine cioè io ho provato prima quella torta i triangolini quelli là nella prima parte li abbiamo provati con le kumi che erano a base di patate e buonissimi ma questi qui che sono a base di riso wow mi piacciono davvero tanto queste le dovete prendere spaziali andiamo con l'ultimo gusto gluten free arrabbiata io ho un po' paura fortissime fortissime ok ok non è il mio gusto preferito però mamma mia è fortissimo infatti gusto arrabbiata e mamma mia è veramente super super forte io che sapete non sono un amante del piccante del forte in generale non è il mio gusto preferito infatti al primo posto gusto pizza al secondo gusto formaggio un viso mio terzo posto rosmarino e ultimo posto arrabbiata proprio perché è fortissimo però se amate i sapori forti vi piacerà io amo i sapori delicati quindi io amerò sempre e solo i sapori delicati ok quindi nulla io spero che anche l'ultimo video per quanto riguarda Fiorentini vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao